ministro servono le classi separate per gli alunni disabili la linea della lega a favore dell'inclusione è chiarissima ed è stata ribadita ed è stata ribadita da matteo salvini in modo chiarissimo credo che quanto fatto a favore dell'inclusione degli studenti usabili credo che nessun altro abbia fatto così tanto come quello che abbiamo fatto noi quindi la macchina stupidaggine ma non ci ha precisato nessuno